Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi continuiamo il nostro giro a Budapest. Chi c'è qua? Chi fa il giro a Budapest così piccolino? Grazie a tutti. Allora adesso ci faremo un giro col famoso traghetto qua a Budapest. Allora costa 15 euro per adulto. Noi siamo due adulti, i bambini pagano zero perché sono piccoli e quindi siamo sempre molto fortunati finché sono piccoli e dopo pagheremo per quattro. Guardate che balla anche questa. Dove sei? Sei sulla barca? C'è anche il bar all'interno. Sì, è la barca? Sì, è la barca. È la barca. Re! La barca! La barca! La barca! La barca! La barca! Sì, è la barca! Lo sollo. Lissimo! Grazie a tutti. 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 È un'esperienza molto bella da fare, sicuramente al tramonto, all'alba deve essere ancora più bello, così potete vedere da un'altra prospettiva la città. E all'interno appunto c'è questo bar dove potete fare un aperitivo rilassante o mangiare qualcosa, è molto molto bello. Sezzi è divertito un sacco e anche noi ci è piaciuto tanto, anche se è veramente un'esperienza molto rilassante, quindi non è una cosa adrenalinica. Ciao. E' un'esperienza molto bello. 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 Noi come sempre vi ringraziamo di aver guardato il video. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale per i prossimi video. Nel prossimo video vi anticipo già che vi presenterò un matrimonio polacco. Quindi se vi interessa non vi dimenticate di iscrivervi. E vi ricordo anche che abbiamo fatto altri due video di Budapest. Uno di Budapest al bastione dei pescatori e l'altro del mercato centrale. Vi lascio come sempre i link degli altri due video se li volete vedere. E niente, vi aspetto al prossimo video con un speciale matrimonio polacco. Se vi interessa non dimenticate di mettere la campanella e avvisami che il video sarà sicuramente già in programmazione. Un bacio e un abbraccio. Al prossimo video.